Sei pronto o no? Si si si, sono pronto Sei pronto o no? Fai vedere che sei pronto Fai vedere Sono pronto Fai vedere Oh, guarda che ti muovi Guarda, fai così Guarda, fai così Sei pronto? Sei pronto? Si si si, pronto Buongiorno Buongiorno Sto cazzo Comunque era un cazzo Non sto cazzo, però Vabbè, vabbè Ma perché? Perché? È da andare a fai culo Oh, adesso si che è una bella giornata Tu ti senti un po' più libero Un po' più pronto? Senti? Ti senti? Come ti senti? Come ti senti? Come ti senti? In forma Come? È da andare a fai culo Fai così Fai così Mamma mia Vai via Vabbè 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 Guardatelo Come tira fuori la coccodrillo caro Eccolo Eccolo 93 anni Da Manovre perfette Al fulmicotone Ma lo sterzo l'hai girato a septic? Sì Sto cazzo Vabbè 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 C'è il pozzo Tu sei un testa di cazzo Corri il culo No Se guarda questa tavoletta E non guarda dove entra la strada Vabbè 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 Non posso andare perché mi addormento un po' Dai Vabbè 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 Ma di qui che ci piantano? I stronzi come te Nooo Sì Ma no Ma oggi si è scatenato stamattina eh E c'è Vabbè Scatenato E in cammini come da camminare Vabbè Mi fa salire Au Testa di cazzo Porca maniera Stronzi Ma che è Ma che è Questo di cazzo C'è per camminare Ma perché Eh Oggi anche al bagno Ma Cammina Adesso cammina No prima Che rannaffa il bagno Mannaggia il crocistrada Che rannaffa Ora fa cagato Ah Com'ai si sei salito Mannaggia la mattana della madrosca Ma sei voluto venire con me Eh Condividere con voi questa emozione Perché Sto macchina Prima quando era normale Tanti anni fa La facevo uscire io dal garage Per imparare Eh A guidare E lui Me lo insegnava A modo suo Perché si incavolava Prendevo il muro Fatto un casino Come tutti penso E adesso Si è rovesciata La medaglia Perché No non lo facciamo guidare Per ovvi motivi Perché ragazzi I riflessi I riflessi non sono più quelli Quelli di una volta C'è 93 anni E vederlo Però ogni tanto Ti do il contentino Ti faccio tirare fuori la macchina Ero tutto carico E Mi sembra di rivedere me Quando ero piccolo Quindi quando uno diventa anziano Diventa Alla fine come un bambino E Niente Mi è emozionato sta cosa Fa Che stai fa 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 O no O no Nonno Ma te stai a sfonare il cincilla? Eccola Colei che guida Dentro il cofano Guarda ma come si fa sta così avanti Come si fa Ma come si fa Stai qua davanti Va 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 Il ritorno In città Com'è stato? Decisamente ottimo Come gioca? Il ragazzo è in forma Gioca bene Ha capito il gioco E soprattutto abbiamo vinto Quello è quello Quello è quello Quello è quello Quello è quello Ma guarda ti fa vedere una cosa Guarda Ma questo è in tablet È in tablet A 4,97 4,97 No Con Bidu Con Bidu Con Bidu Con 52 puntate utilizzate Adesso ti spiego Buona Mari questa è Bidu Questa è la sezione Apple Hai capito? Ah Vedi tu puoi fare le tue puntate Ci sono tutti prodotti Fantastici C'è anche la sezione Luxury Guarda che lavoro Guarda Guarda Prova a fare una puntata Prova Buona Mari prova a puntare su qualcosa Sulla sezione Luxury Vai 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 Brava Stai vincendo Brava brava Nel frattempo io vi lascio 10 puntate gratis Su Bidu È gratis per i nuovi iscritti Quindi fate così Ta 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 Fa Fa Eh Marello Dormi Non dormi Dormimo Ma ma lasciato di coglioni Dai andiamo Non so dormire Chi dorme? Oh Eccoli i signorini Eccoli qua Signorini sarei tu Oh Io sono Faustino No signorini Oh no dai No no Io sono Faustino Oh vabbè Eccoli Stiamo andando in Dove stiamo andare? Andiamo in palestra Palestra per sgranchire un pochino Perché bisogna tenerli in forma Vero? Eh Sti vecchi Sti vecchi bisogna tenerli giovani Eh Eh E beh Bisogna tenerli in forma sti vecchi Ma vecchi Ma vecchio sarei tu Eh perché Che io non so vecchio Guardate lei come sta dietro Sembri lei di chiocci ma nonno marì di qualcosa ma nonno marì andavo a dormire a mezzanotte ma non c'erano sono tornato a guardare le televisioni e le tonine un'altra volta nientimeno ho guardato il 59 quelle che accomodavano le macchie tu guardi le sorche nonna marì di la verità oh ma tu sei sempre a guarda di lì e ora ti voglio fare tanto che Andri prepara tutto abbiamo anche lui con un outfit con jeans e scarpe elegante e maglione a collo alto in bicicletta non l'hai mai visto ma come mai ma fuori cazzo mio bravo è così facile mi hanno messo a 90 adesso eh a 90 no mai oh no vai che sottopalla il corriere è differente eccolo guardate che corriere guardate che rapida ti dà ragazzi eh mamma mia sperisci la roba alla casa e fai una cagola che poi abitiamo vicini eh sì sì stavo a 100 km tu hai un nipote che non è normale 93 anni tu sei uno stile di vita tu sei uno stile di vita 93 anni sei uno stile di vita tu sei uno stile di vita bello gravi guarda che pressa che fa 93 anni sei uno stile di vita tu sei uno stile di vita fai che ti scendo dai dai mamma mia che potenza cioè ti rendi conto guarda 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 mamma mia ragazzi manco io gliela fai guarda c'è un po' la trippa fuori gioco va bene così non guardate lì tutti marcoli siete contenti? tanto eh capirei capirei sincero io eh davvero guarda quanto siete guarda quanto siete belli giovani guarda guarda che lavoro guarda che lavoro che ru kasmo guarda quanto siete guarda , ma dai god guarda 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 guardate come è Filipe? pensavo che era morto non si ha visto più? 5 giorni che l'ha visto e dove è andato? dove è andato? e io pensavo che era andato in Islesia no no è assente non c'è più una persona sono venuto a vedere i manifesti da morto e dico sarà morto chissà o no tocca tu no o no se tocca se tocca perchè? piena di grappa il signore è in cantina più ubriaco di prima ave maria piena di grappa ave maria piena di grappa piena di grappa ma oh dove ho? vai sul alto vai calciare tu dormimo eh? stai dormi guarda che cane bello 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 Bravino! Avemo fame! Cosa è sgaie? Abbiamo risistemato il pezzo forte della macchina ci si era rotto forse da sbattere e adesso si ritorna Faustino sei un coglione Ma ti fai anche uno Sarai tu un coglione Questa è la mia, la moto, eh? Eh? Oh, di chi è quella moto? Di chi è? Ah, fermo! Ah! No! Tu già stai a mangiare? Oh! Eh? Tutto sto prosciutto? Leva un po' le prosciutto. È salata? È salata? Mm? Che vuoi fare? Che vuoi fare? Che gli fai o no? Eh, smettola, dico! Oh, smettola che fa bestemmiare a te! Io il fa bestemmiare? No, no, io! No! Arciughe! Guarda quanti arciughe, bene! Sì, la mica! Boh! Ditto! Ma non stai a mangiare? Ma come è? Stai a mangiare il cervello? L'ho mangiato il cervello? Eccolo! Ah, vedo il tazzo! Chi è? Eh, te! Chi è? Chi è? Un cazzo, eh! Ma... Sempre paroline dolcissimi al miele! Oh! Ma se mi dici che è pozza, fa le fiamme! Mi dici quel striglio! Ma sono tazzo, Anio! Ma tu sei un coglione! Mi sono tazzo? È dal mezzo di strigliare! Che la parla fiamme! Oh! Ma baffanculo! Incredibile! Già 25 gradi! 25 gradi un caldo! È fatto anche l'indiano di qui! Eh? Che hai fatto? Una sega! Mamma mia quanto è caldo, raga! 25 gradi! È caldo! Le pote di coglioni! È bella pia con il cane! Ti parla la domatrice! È vero la domatrice! È la domatrice o no? Lo voleva venire su? No! Ma tu gli urli se sentivano da sopra, amico! Oh! Oh! Dammi il metro di coglione! Va a dormire! Ecco va! No! Le minacce no! Ma che stai a guardare? La figa! Un'altra volta! Quella verso mezzanotte sicuro! Sicuro verso mezzanotte! E' andato o no? È il volo! Eh? È il volo! Chi? È il volo! Chi? Ma va qua! No! Saluteli! Oh! Ciao il volo! Non amare a gli piacciono tanto! Sera tutta vita! Dormimo! Sogni d'oro! Capomilla! E via! Che bello! Mi fa una dormita! C'ho un sonno che... Casco! Mi fa una dormita! C'ho un sonno che mi fa una dormita! Ma che è un dono? Eeeh... Eeeh... E' un dono! E' un dono! E' un dono! Eh, iniziale d'ora, però insomma... E' un dono! E' un dono! E' un dono! Ma che è un dono! E' un dono! E' un dono! E' un dono! E' un dono! C'è il parastinco di Sant'Ubaldo, padre Spio, tutti eh! Allora... E' un dono!